Ciao amici di Finalmente Libero, sono Samuel Piva vi chiedo scusa per la location ma sto andando a lavorare come voi sapete, molti sanno e magari qualcuno di voi non sa io faccio il videomaker, quindi mi occupo prevalentemente di videodocumentari per le televisioni e di spot da mandare su internet per le aziende per promuoversi al che mi sono chiesto in questi giorni ma perché non provare a sviluppare con il sistema CEREC ormai tutti voi conoscete praticamente quel sistema automatico, un network marketing mi spiego meglio, entrare in gruppo quindi in un network che è già stato scelto appunto per le sue caratteristiche per poterlo poi sviluppare praticamente via internet senza bisogno di starci troppo dietro senza bisogno di continuare ad alimentarlo senza bisogno di dover andare a parlare tutti i giorni con centinaia di persone per cominciare a guadagnare qualcosa allora il network è stato scelto, vi posterò subito dopo, vi invierò il link di un video dove spiega benissimo come funziona questo network, si chiama Dexcar ovviamente noi punteremo a guadagnare quindi c'è anche bisogno di un piccolo video dove spiega la carriera di Dexcar, quindi ci sono tre figure, vedrete bene i clienti, i clienti VIP e gli advisor gli advisor sono quelli che in realtà guadagnano ed è questo il discorso noi dobbiamo guadagnare da questo network ovviamente la cosa bella potrebbe essere che è facilmente replicabile una volta che cominciamo a capire come si muovono i network e come far entrare molte persone praticamente senza perderci neanche un secondo in automatico è facilmente replicabile per tutti i network in realtà o quasi questo è un network di affiliazione non un network di vendita quindi non guadagneremo dal vendere l'identifricio a 10 euro quindi noi l'abbiamo pagato 8 euro, 2 euro, ce li mettiamo in tasca no, è un network di affiliazione ma vedrete bene nel prossimo video dura un pochettino, dura un poco più di 20 minuti però ne vale davvero la pena e poi c'è un video di 4 minuti che spiega la carriera come si guadagnano soldi con Dexcar e poi vi farò un mini video di un paio di minuti dove vi farò la mia proposta così potrete decidere bene cosa fare se volete entrare a fare parte di questo gruppo che vorrei organizzare e ne parliamo poi di persone una volta che avrete visto tutti i video ovviamente per Finalmente Libero ci sono oltre 200 video e li avete probabilmente visti tutti quindi non credo che saranno 4 mini video a fermarvi per questa opportunità vi auguro una buona giornata anzi probabilmente lo caricherò questa sera quindi una buona serata e io per un attimo comincerò a lavorare buona giornata a tutti